Io non mi faccio di certo impressionare da etichette, da sparate, da sufficienti commenti. Bentrovati, bentrovati a tutti quanti voi. Io ritengo che la classifica attuale, alla settima giornata di campionato, sia stata totalmente pilotata dall'AIA settore arbitrale. Basta valutare tutto quello che è successo e ne sono convinto di questo. Potete continuare a dire di tutto e di più l'arbitro e la scusa dei perdenti. Qui non ci sono perdenti, la Juventus ha vinto la Coppa Italia non più di due o tre mesi fa. In questo campionato non ha mai perso, quindi nessun perdente. Qui non c'è nessun perdente. I perdenti storici sappiamo quali sono. Qui perdenti non ce ne sono. È inutile che continuate a dire che se ce la prendiamo con l'arbitro siamo le parole dei perdenti. Qui perdenti non ne vedo, con le maglie bianco-nere, gialle e anche nere. E francamente, questa cosa che mi chiedo da tempo, come mai, dico come mai, la Juventus gioca con queste maglie, questi sponsor, è vero, stanno davvero rompendo l'anima, perché francamente noi vogliamo vedere la Juventus con la maglia bianco-nera. Siamo storici e la Juventus non gioca mai con questa maglia bianco-nera. Gioca con questi colori appezzottati che chissà che caspita fanno. Possono essere anche belle le maglie, la nera è molto particolare. Ma noi vogliamo vedere la maglia bianco-nera, la seconda maglia è blu, come la città di Torino. Giallo-blu o blu-giallo. Basta, basta. Quindi, chi mi viene a voler fare la predica che qui attacchiamo l'arbitro perché è l'anima dei perdenti, francamente non ci sto, perché qui nessuno ha perso. La Juventus è imbattuta, ha preso un solo gol in campionato, peraltro sul rigore che non c'era. Quindi, cominciamo a mettere i puntini su lei, non dite cazzate perché fate figure di merda. Perché chi dice questo fa figuracce di merda. Il problema è un altro. Il problema è che la Juventus sta pagando i nove scudenti consecutivi. Purtroppo, devo dire purtroppo, sono gli stessi video che facevo l'anno scorso. Perché si verificava la stessa cosa. Erano gli stessi commenti che facevo due anni fa. Perché si verificava la stessa cosa. Dall'anno di Pirlo in poi, al di là delle nostre colpe, che sono state accentuate dalle nefandezze arbitrali, siamo stati praticamente martoriati, martirizzati, picconati dall'AIA settore arbitrale, dalla FIGICI. Ma lo dico senza timore di essere smentito e chiaramente, deliberatamente, posso dimostrarlo. Quindi tutte queste cose che voi dite, ve le tenete per voi. Perché francamente, chi dice che la Juventus attacca l'arbitro, oppure i tifosi della Juventus attaccano l'arbitro, perché noi dicevamo che gli altri, per gli arbitri, erano le idee perdenti, dice una grande corbelleria. Una corbelleria palese. Qui ci sta una manomissione della classifica, che alla settima giornata non vede la Juventus in testa solo per colpa degli arbitri. Solo ed esclusivamente per colpa degli arbitri. Voi mi dite, ma gli errori di Koppmeiners e di Vlaovic possono sbagliare? Perché si sbaglia anche. Ma non perché hanno sbagliato i pipponi della Juventus, chiamiamoli pipponi in questa vicenda, gli arbitri ci devono dare addosso. Allora gli arbitri vengono giustificati, perché sbagliano volutamente, scientificamente, contro la Juventus e noi invece ce la dobbiamo prendere con Vlaovic che prende il 12 milioni. Non lo sto giustificando. Quel gol lo deve fare, per carità. È il capocannoniere del campionato e il capocannoniere del campionato quel gol lo deve fare. Il capocannoniere del campionato non può non fare quei gol. Coppmeiners costa 60 milioni ogni anno in doppia cifra, non può non fare quei due gol nel primo tempo e chiudere la partita. Ci sta colpa ai nostri giocatori, ma quante volte si è verificato? Quante volte? L'anno scorso Lautaro ha sbagliato 60 gol davanti al portiere, poi arrivava il Rigorino, poi arrivava l'Aiutino e nessuno più si ricorda che Lautaro ha sbagliato 60 gol davanti ai portieri, ha fatto il capocannoniere di una squadra che costruiva 40 gol a partite con l'aiuto dell'arbitro, 4 con la Salernitana, 4, l'anno prima 3 con la Salernitana, quest'anno la Salernitana non c'è, quest'anno la Salernitana non c'è. Faccio il paragone con Lautaro, perché Lautaro è il capocannoniere dello scorso campionato. Penso che se Vlauvi ci stava nell'Inter dell'anno scorso, con tutti gli aiuti arbitrali, con quel bel gioco di Inzaghi, arrivava a 40 gol. Non abbiamo la contropropa, però, stando tutti in difesa, ne ha fatti 15, 14, 16, l'anno scorso 18, con la Gazzapita ne ha fatti. Ma non voglio divagare rispetto a quello che voglio dire. La classifica, almeno fino a questo momento, è stata determinata dalla AIA settore arbitrale, perché alla Juventus mancano le decisioni contro il Napoli, espulsione di Politano netta e passaggio indietro del portiere, del giocatore al portiere. Non segnava, non segnava, non vinceva, non vinceva. Ma fammi dare queste due cose. Manca l'espulsione in rosso per la testata a Gatti, ad Empoli. mancano i quattro rigori, tre, quattro rigori contro il Cagliari. Dove stava la Juventus? Allora la chiacchiera che la Juventus gioca male, che la Juventus ha sbagliato la campagna acquisti, è una chiacchiera che io non mi bevo. Perché se voi pensate che mi devo bere l'imposizione dell'antijuventinismo che è infiltrato negli juventini, vi state sbagliando, ma vi state sbagliando di grosso? Totalmente di grosso. Questo è un campionato farsato, non lo dico solo io. Ormai lo dicono tutti, anche gli addetti ai lavori. Innanzitutto è farsato per la presenza della non iscrivibile, squadra che non poteva essere iscritta al campionato. E se ieri, Viglione, che è il rappresentante legale della FIGC, Aia Settore Arbitrale, marito della Presidente della Covizoc di Messosi, che faceva praticamente il tifo a bordo campo in Inter Torino l'anno scorso, quando si sono freggiati di rubarsi uno scudetto vergognoso, perché l'hanno rubato, ma lo dico che l'hanno rubato perché sono arrivati 20 punti avanti, figuratevi come dico che l'hanno rubato. era tutto studiato a tavoli. E voi pensate che io mi debba bere tutto questo? Ma davvero pensate che qui ci stanno i fessi? Ci stanno i papocchioni? No. Francamente no. Dici, ma tu stai mettendo in discussione il primato del Napoli? Certo. Il Napoli ha i punti che deve avere. Il Napoli ha giocato bene, ha vinto contro le piccole, cosa che non ha fatto la Juventus, perché il campionato, ve lo dico, si vince contro le piccole, la Juventus non ha vinto contro l'Empoli e contro il Cagliari, ma ritengo che con la Roma, perché c'è stato un altro episodio con la Roma molto grave, molto grave, che ha impedito la Juventus di vincere, contro il Napoli, molto grave, che ha impedito la Juventus di vincere, contro l'Empoli, che è contro il Cagliari, quindi vi dico apertamente, in questo momento, non sono le nefandezze di Tiago Motta, che pure va, diciamo, pizzicato su determinate cose, o della Juventus, che non riesce a fare gol, no. La Juventus gioca bene, la Juventus esprime un calcio eccezionale, è inutile che ci giriamo intorno. La Juventus sta giocando benone, con dei limiti, con degli errori, ma sta giocando bene. La classifica è determinata, solo ed esclusivamente, non dagli errori arbitrali, perché se parliamo di errori arbitrali, mi sta bene che la Juventus sia a tre punti dietro la prima in classifica, se sono errori, perché tutti possiamo sbagliare. Allora, se sono errori, io alzo le mani, perché come sbaglia un attaccante, può sbagliare l'arbitro. È raro, è umano, sbagliare è umano, per carità. Qui non si sbaglia, qui si decide. Doveri ha deciso lui, che il calcio di punizione a due in aria contro il Napoli non c'era, con rabbia, con cattiveria. Avete capito? Doveri ha deciso lui, che Politano, che è entrato col piede a martello, sulla gamba di un giocatore della Juventus, non lo ha espulso, né lui e né il VAR. Perché se il VAR non poteva intervenire, sulla questione retropassaggio, poteva intervenire però sul fallaccio di Politano. Togli Politano al Napoli e togli un uomo al Napoli, anche per la partita successiva. Quindi, contro il Cagliari, l'arbitro non ha sbagliato. L'arbitro ha deciso che la Juventus, quella partita, non la doveva vincere. perché ci sono troppe, troppe coincidenze. Non sono più errori, perché io davanti agli errori alzo le mani, tutte e due. È palese, è palese che tu, consensato, prendi 20 falli, lo ammonisci al primo fallo che fa, dà munizione. Perché il primo fallo che fa consensato è dà munizione. è fatto bene a munire così. Ma tu, dieci volte che lo hanno sbendagliato in tutti i modi, non sei intervenuto sul centrale Cagliaritano. Mina. Non sei mai intervenuto, ha fatto una partita da assassino. Ma voi a chi volete darla a bere, questa? oltre poi ai calci di rigore. Cioè, sei stato così lesto ad andare a munire con sensato per aver subito un fallo da rigore. Tu lo vai ad ammonire, sei cattivo, perché sapevi che era già munito e lo dovevi cacciare fuori, con quella rabbia, con quell'impeto. tu non hai dato un calcio di rigore al Cagliari perché hai visto bene, hai visto bene che quello è un contrasto in aria, non è mai calcio di rigore, mai è calcio di rigore quello lì. Invece sei andato al VAR perché ti hanno richiamato al VAR, non hai avuto le palle per dire ai varisti se vi state sbagliando, questo è uno scontro di gioco. E i varisti, la mala fede dei varisti qual è? Lo hanno chiamato su un non fallo. Non lo hanno chiamato però per i due falli su Savona, per il fallo di mano in aria di rigore poco dopo che aveva segnato l'altro fallo fallo di mano. E non lo hanno chiamato sulla Svista Consensao. Perché? Perché il VAR ed è stato quello diciamo il motivo di tutto aveva già chiamato il primo fallo da rigore perché là è stato un regalo alla Juventus. Quel rigore là per me non c'è mai quando facevo l'arbitro io, non c'è mai rigore concesso alla Juventus. Ma per i nuovi dispositivi purtroppo per questi vergognosi nuovi dispositivi quello è calcio di rigore purtroppo devo dire quindi già hai fatto un'eccezione alla tua missione di non far vincere la Juventus caro VAR dopo ti sei accanito a non fischiare più a non richiamare più l'arbitro perché è un accanimento e allora non sono errori questi qua queste sono decisioni prese dall'alto lo dico non sono complottista complottismo è un'altra cosa qui sono cose chiare ed evidenti palesi e allora non mi venite a dire che l'arbitro è l'alibi dei perdenti vi ripeto perché qui perdenti non ne vedo se non una squadra fallita non iscrivibile che attraverso le istituzioni sta governando il calcio italiano ve lo dico apertamente il presidente della repubblica è tifoso della non iscrivibile il vice presidente della repubblica presidente del senato la truffa è tifoso della non iscrivibile il procuratore capo che conduce le indagini è tifoso della non iscrivibile il presidente del Tribunale è tifoso della non iscrivibile, Infantino che è presidente della FIFA è tifoso della non iscrivibile, non può essere iscritto al campionato ma i suoi tifosi sono nelle istituzioni, non si possono togliere stesso loro il giocatto e solo per questo io devo stare zitto e i tifosi della Juventus devono stare zitti e solo per questo noi dobbiamo dare colpa al nostro allenatore Tiago Motta che ha le sue colpi ci arriviamo, dobbiamo dare colpa ad una squadra, dobbiamo dare colpa ad un ragazzo venuto dal Portogallo che ha la sola colpa di essere il più bravo di tutti e per questo adesso ce lo massacreranno, consensato perché ci sono questi farabutti nelle istituzioni, ma voi state scherzando, ma voi state pazziando o che state dicendo? Ma che stiamo scherzando? Ma davvero possiamo sottostare che sono anni, 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 anni di gravissime sporcizie fatte sulla Juventus e noi dobbiamo sentirci sì, ma avete rubato tanto, parlate proprio voi, non lo accetto, state zitti, disonesti, siete dei disonesti, non potete farvi la barba la mattina perché parte lo sputo stesso da parte della vostra coscienza, schifosi e io dovrei accettare tutto questo, no vi state proprio sbagliando, io queste cose non le accetto, noi abbiamo una dignità, noi abbiamo una dignità, quindi non mi fate sentire e alla mia presenza non dite mai certe cose, l'alibi dei perdenti, non l'alibi dei perdenti, qui c'è un sistema che ci sta scavando il culo, solo perché si devono vendicare, eppure sta storia, la società che non balla, la società che non balla, ma non ha mai parlato, ogni tanto parlavamo oggi, qualche volta parlava Boniferti, poi ha parlato Conte, ma chi parla? Quando mai abbiamo parlato? Forse è stata la colpa storica, questa forse è stata la colpa storica, ma chi dobbiamo parlare? Dobbiamo parlare non accettando le provocazioni degli anti-juventini, quello vuol dire parlare, non facendoli parlare, non andando a fare le live con gente anti-juventina o meglio, io stasera sarò in una live di milanisti dove si discute di giustizia, e ho preteso che non ci fossero alcuni soggetti, altrimenti non andava. Da Marietto, dove già sono stato, e Marietto e il bandito hanno dato grande dimostrazione di volere la stessa cosa che vogliamo noi, ma lo stesso oggi ho mandato a quel paese un soggetto che mi chiamava continuamente, continuamente, dicendo che era giuventino, che era, poi scopro invece che era un tifoso dell'Inter e che fa SESA nelle live, naturalmente. Immaginate io per telefono cosa gli ho detto, perché io non voglio averci a che fare, avete capito? Non voglio averci a che fare, perché non sono onesti, non ti danno la possibilità di poter interloquire, perché sono quelli della Juve Rubba, sono quelli della Juve alla colpa di tutto, no, non ci può essere mai confronto, né tantomeno scontro, perché quelli là, per quanto mi riguarda, l'hanno messi da parte. Questa la chiudo, si parla adesso di Tiago Motta. Tiago Motta sta facendo un grave errore, un errore di presunzione gravissimo, ma non è che mi voglio contraddire rispetto al fatto che la Juve gioca bene, non prende gol, viene vessata dalle decisioni arbitrali, no. La Juventus probabilmente, oltre agli episodi contrari, continui e costanti, sempre contro di lei, della classe arbitrale, non riesce ad avere la continuità anche per un altro motivo e che già abbiamo individuato da tempo. Tiago Motta cambia la squadra ogni volta perché vuole far capire che è lui la prima donna. Purtroppo questa è la verità. Mi sono confrontato con degli esperti, con allenatori che stimano Tiago Motta, con tecnici laureati al supercorso di Coverciano, con i quali ho parlato, e mi hanno detto tutti la stessa cosa. Tiago Motta è bravo, è molto bravo, ma pecca di presunzione perché vuol far capire che la bravura è la sua e non è della squadra. Che gli schemi sono quelli con qualsiasi calciatore gioca. Naturalmente erano tutti concordi sul Locatelli. Non può giocare in Serie A. Rallende il gioco, non è lineare, non sceglie mai la cosa giusta da fare. Cose che dico da tempo, pensavo di dirle solo io, ma mi sono confrontato. E dicono tutti la stessa cosa. Quindi Tiago Motta ha questa presunzione, questa arroganza intellettuale che potrebbe limitarci. Tuttavia se devo dare io un giudizio sulla Juventus, per me è la Juventus promossa a piedi voti. In questo momento non è al primo posto perché è vessata dagli arbitri. Totalmente vessata dagli arbitri. E ci sono altri episodi che non sto citando. Mentre, per esempio, squadra che sta al secondo posto, non iscrivibile al campionato, si trova ad un punto davanti alla Juventus e a due punti dietro al Napoli perché è stata avvantaggiata chiaramente da decisioni arbitrali soprattutto a Udine, soprattutto a Udine, dove l'arbitro ha fatto schifo. E poi è stata avvantaggiata da una decisione probabilmente giusta all'espulsione al giocatore del Torino, ma solitamente quelle espulsioni le fanno a favore della non iscrivibile e a favore di tante altre squadre italiane, non certo a favore della Juventus. Poi per quanto mi riguarda, per me la Juventus ha una delle rose più forti del campionato, se non dell'Europa, è prima in classifica in Europa, dove ha fatto Unplay fino a questo momento. È una squadra che segna e poi non segna, quindi ha degli alti e bassi sotto questo aspetto, ha il capo cannoniere del campionato, sta pagando probabilmente la giovane età, l'inesperienza e anche la partecipazione alla Champions League, che noi dobbiamo essere sempre poi chiari. Bremer l'abbiamo perso in Champions League. Le costole, Cup Miners, se ne rovinate in Champions League. Per cui, quando poi si dice che su più fronti non si può giocare perché ci sono degli acciacchi, ci sono delle conseguenze che sono fisiologiche. Diciamo la verità, è vero, è troppo vero, è totalmente vero. Quindi, se la Juventus non è prima in classifica al campionato, ci sono molte componenti. La principale è quella che gli errori, o meglio non gli errori, le decisioni arbitrali, perché gli errori io li accetto. Io voglio perdere anche ingiustamente se l'arbitro sbaglia in buona fede. Ma dato che io non credo alla buona fede, non ci credo più, perché la buona fede ti porta ad essere una volta contro, una volta a favore, due volte contro, una volta a favore. Le cose si bilanciano. Qui sono tutte decisioni contro. Si va solo contro una squadra. Il VAR è utilizzato per andare contro. È un attrezzo di manipolazione, di falsificazione ormai contro la Juventus. E lo dice Mauro, e lo dice Zazzaroni, e lo dicono ovunque, che il VAR lo stanno utilizzando contro la Juventus. E quest'anno ancora devono annullare qualche gol con la linea, con il fuorigioco semiautomatico. Qui l'Inter è stata avvantaggiata, perché il pareggio con il Monza, chiaramente, è in fuorigioco frattesi sul gol di Danfris, ma non l'hanno chiamato, gli hanno regalato il punto. Dobbiamo dire ancora. Quelli che ci ricordiamo. Per cui io respingo al mittente, soprattutto chi sostiene, che noi parliamo dalla pedana del perdente. No, mi dispiace. Siete totalmente fuori giro. Siete stanti, siete retrogati. Siete ripetitivi. Troppo ripetitivi. Cioè, voi volete aggraziare le simpatie dei ratti, dei pignoratti. Non vi diranno mai che la Juventus ha meritato di vincere una competizione. Non ve lo diranno mai. Perché non sono intellettualmente pronti a dirlo. Sono dei ratti sotto ogni punto di vista. E il pignoramento che ha poi consegnato questa bella frase, pignoratti, va proprio calza a pennello. Ma nemmeno i napolisti ammetteranno mai che la Juventus ha vinto regolarmente. Siamo noi che vogliamo fare i blil. No, no, no. Col Napoli lo faccio pure perché non la ritengo una squadra che, per quanto i tifosi siano totalmente contrari alla Juventus, ci sta. Ci sta. No. Anche se poi contro la Juventus hanno vinto le loro coppe e competizioni con gli errori arbitrali. Ma sono quegli altri là, quelli che hanno inventato calciopoli, quelli che ancora una volta fanno spionaggio industriale, quelli che non hanno mai accettato la superiorità del campo. Come volete voi contrastare questa gente parlando ma quando vinceva la Juventus noi non ci mettiamo sullo stesso livello loro. Con gli scostumati ci vogliono i maleducati. Queste gentaglia, queste sono la piaga sociale, ve l'ho detto già in estate. Sono una piaga sociale. Che ti fai a confrontare con una piaga sociale? È la stessa cosa che ti vuoi confrontare con la mafia, con la camorra, con l'andrangheta, con la Sacra Corona Unita, con gli estremisti di destra piuttosto che quelli di sinistra, con chi butta bombe in mezzo alla strada, con gli incendi sociali, con gli anarchici. Quelli sono piaghe sociali. E gli interisti, l'inter, l'ex inter, i non iscrivibili sono una piaga sociale. Ti puoi mai aspettare che da uno della piaga sociale ti puoi dire che la Juventus ha meritato di vincere i 38 scudetti? Te l'ho mai... Allora no. Allora io dico la verità perché ci sono i fatti. Poi alla Juventus tutto potete dire. Tranne che una perdente. In Italia 38 scudetti, 15 Coppa Italia, 9 Supercoppa italiane. A proposito di Supercoppa italiane, il 2 gennaio Inter-Atalanta, il 3 gennaio Juventus-Milan, il 6 gennaio la finale. Si va a giocare lì dove c'è il sole pure tutto il mese e tutto l'anno, dove il pallone non sanno manco cosa significa quelli che si mettono quel coso in testa. E quindi si va a fare la Supercoppa all'altra buffonata, un'altra schifezzata. Immaginate se il Napoli è primo avanti con 5-6 punti, si fermano i Juventus, ma pure l'anno iscrivibile, e li avvantaggeranno, gioco forza. E via dicendo. Allora, voi pensate che la squadra con tutte queste vittorie che dimenticate presse, perché voi i Juventini che dite queste cose, avete la memoria corta, avete la memoria troppo corta, per dire l'arbitro e l'alibi dei perdenti. E' una parola che la Juventus non conosce. E' prima in tutto. Anche nelle coppe europee, mi dispiace, Milan avrà pure sette coppe internazionali, e grande merito rispetto al Milan, ci mancherebbe altro, ma la Juventus è quella ad avere più coppe. E la Juventus è la prima ad aver fatto il triplete vero, Supercoppa, Coppa delle Coppe, Coppa UEFA, e Coppa dei Campioni con tanto di certificato UEFA. L'UEFA è quella che contava, non quella dei delinquenti che ci stanno adesso, UEFA mafia, non dicono bene, a Dortmund. Grande Borussia Dortmund, grande, grande Borussia Dortmund. Sti colori qua, gialli. Anche la penna, ma è una coincidenza. Quindi, cari amici, francamente, queste cose non mi vado di sentirle, né di ascoltarle, però mi piace poi fare una disamina chiara ed evidente. Chi oggi dà addosso alla Juventus, perché è al terzo posto, a tre punti dalla prima, dopo sette giornate, con dieci gol fatti e uno subito sul calcio di rigore, con la migliore difesa d'Europa, con il capo canoniere del campionato, state proprio fuori fase. Fuori fase! Perché oggi la Juventus è la squadra che gioca il miglior calcio in Italia, è la squadra che esprime il miglior gioco in Italia, lo volete o no, fermata però da, non errori arbitrali, ma da decisioni arbitrali, tutte dalla stessa direzione. Questa è la realtà dei fatti e difficilmente potete smentirmi. Poi naturalmente c'è chi butta fango su Tiago Motta, c'è chi butta fango su Giuntoli, c'è chi butta fango sui nostri acquisti, Douglas Lewis. Ma voi davvero potete giudicare Douglas Lewis da quattro o cinque apparizioni seppur in maniera sufficiente e non all'altezza del suo grande valore? Ma davvero si può pensare questo? E dai! Se non vi fate imbasticcare dall'anti-Juventini, non vi fate imbasticcare! Douglas Lewis è un grande campione, l'avete visto pure con Ken l'anno scorso, Nasca Morse è scarsa, è scarsa, è scarsa, ma là è il miglior in campo, è vero, sbagliato il calcio di rigore, ma che partita ha fatto contro il Milan? Ken. Altro che svenduto, un attaccante di 40-50 milioni, siamo ancora fatti far fessi dalla Fiorentina, dalla non innominabile, perché quella squadra mi porta decisamente prurito. Voi sapete io cosa penso di Firenze, di Fiorentina e di tutti quanti. Avete capito il senso del discorso? Ci siete arrivati o no? Spero che sono stato chiaro, ma oggi andare ad infancare la Juventus per accodarsi sistematicamente, vigliaccamente e assuefarsi ad un conformismo narrativo, vergognoso, anti-Juventino, francamente questa cosa, cari Juventini, che dite queste cose, mi fate schifo. Naturalmente, apro e chiudo parentesi, quando pensate questo, poi in qualità di tifoso della Juventus, vi amo, vi adoro, ma quando vi assuefate a questo conformismo becero, anti-Juventino, poi mi dà fastidio, mi dà totalmente fastidio. Mi fermo qui, vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube Sergio Vessicchia, ad attivare la campanella delle notifiche e a mettere un like se lo ritenete opportuno. Non lo dico mai, ma questa volta sì, perché dovete capire, forza Juventus, Forza Juventus!